Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci mettendo mi piace a questo video, poiché il canale è soggetto a una vasta campagna di notifiche e sta affrontando alcuni problemi tecnici, quindi abbiamo bisogno del tuo supporto premendo il pulsante mi piace per questo video, affinché il sistema YouTube possa proporlo a quanti più italiani possibile. Grazie. Quindi come vi ho confermato nei video precedenti, pioggia e neve torneranno in Italia a partire da domenica sera 31 dicembre 2023. La pioggia continuerà a cadere fino a lunedì mattina, con un notevole abbassamento delle temperature e forti venti. Conseguentemente a partire da domenica, piogge molto intense su Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Coste Laziali e Campane e diverse zone del Piemonte. Forti nevicate in alta Montagna e nelle zone prealpine della regione, Valle d'Aosta, Trento, Alto Adige, ciò in attesa dell'arrivo di un altro temporale più potente nella prima settimana del prossimo gennaio, che porterà con sé forti piogge su tutte le regioni da nord a sud. Qualsiasi altra notizia importante proveremo ad aggiornarvi più tardi.